Uè, per farla breve mi sono infiltrato in alcuni gruppi Novax su Facebook e Telegram per provare a vedere un po' com'è il mood e quali sono gli argomenti di discussione. Questo è il primo video di una serie che volevo fare da un po' di tempo, tipo un anno, e per un motivo o per un altro poi l'ho rimandata sempre. Quindi partiamo coi Novax, poi andiamo un po' a vedere, che ne so, rettiliani, respiriani, alienisti, insomma, vediamo un po' come va. Quindi ditemi un po' che ne pensate, se avete suggerimenti e se vi piace. Oh, quello che dico ovviamente non è legge, è il frutto di un'analisi approfondita ma improvvisata. Lo scopo del video è quindi quello di andare un po' a capire questo mondo, oltre che sfotterli e basta facendo il bulletto. Quindi cominciamo un po' il video andando a vedere cosa ho scoperto e poi leggiamo e commentiamo assieme un po' i messaggi più divertenti. Giuro che cercherò di evitare per quanto possibile di sfotterli perché scrivono sgrammaticato in caps lock o perché si incazzano subito. Beh, io ci ho provato. E comunque, il mio preferito in assoluto è questo. ZUKA! Nel corso della mia lunghissima carriera da infiltrato tra i Novax ho scoperto un sacco di cose che non mi aspettavo. A cominciare dal fatto che molti non amano essere additati come Novax, perché in fondo anche per loro ha un'accezione negativa. Non per tutti è motivo d'orgoglio, diciamo. Tuttavia, ho anche trovato conferma di molti tra i luoghi comuni che circolano su internet. Ad esempio, il modo con il quale selezionano le informazioni. Innanzitutto, è vero che danno pochissima importanza alla verifica delle fonti. Poco importa se chi parla è un soggetto non ben identificato che racconta cose poco credibili. Un medico radiato oppure un notaio. Se conferma il loro ideale, diventa automaticamente un notaio. Quindi uomo di legge e pubblico ufficiale. Non come quell'altro notaio. Quello lì è un corrotto che fa i bocchini. Vero è anche che non hanno moltissima voglia di approfondire le notizie. Ad esempio, se c'è un titolo clickbait, gli basta la copertina. Non è importante poi andare a vedere cosa dice davvero la notizia. Diciamo che gli basta poco per fargli scattare l'embolo. Ah, poi non l'ho detto ma la grafica è sempre di qualità. Parlando di fonti di informazione, una cosa che mi ha stupito è che non condividono solamente notizie dal sito, cose che ti dirà solo il mio cugino salumiere. Un saluto agli amici salumieri. In realtà girano anche un po' di quotidiani nazionali. Quelli che ho trovato più spesso sono Libero La verità Il tempo E avvenire Un'altra cosa già sentita e confermata è che i dati non gli interessano, ma proprio per niente. Cioè, non è vero che dicono sempre che sono tutti corrotti e pagati. Lo dicono, eh. Però il fatto è che sono talmente radicalizzati nelle loro convinzioni che non hanno proprio voglia di provare a cambiare opinione. Cioè, ormai, se non la pensi come loro, sei un nemico. Cioè, se ti identificano, fanno comunella e ti cominciano a insultare. Oh, non è che i C-Vax facciano molto diversamente. È solo che lo vedi che, c'è, da un lato c'è, non so, un po' di sufficienza, no? Un po' di sfottio. Cioè, dall'altra lo vedi proprio che c'è, proprio O, comunque, se capiscono che sei un amico, si fidano. Una cosa che va molto, molto, molto di moda ultimamente sono i riferimenti al nazismo e a Norimberga. Anche se cominciano ad essere un po' politically correct, eh. Non si sa mai che poi qualcuno si offenda. Ecco, parlando di politica, una cosa che mi ha stupito molto è che, in realtà, non si parla molto di politica italiana. C'è un partito che martella manetta che è Italexit, eh, quello di brutto. Però, a parte quello, non è che, c'è, a parte ogni tanto qualche messaggio di odio verso Draghi e Speranza, non c'è molto interesse. Anzi, quasi quasi direi che c'è più spazio alla politica estera. Tipo, ultimamente gli sta sulle balle Macron, oppure Bolsonaro è visto come un eroe, poi, c'è, vabbè, già si sa. Sono molto, molto attivi e molto attenti all'attualità. Non si fanno sfuggire nulla che, a loro detta, potrebbe essere reinterpretato. Insomma, la realtà è così noiosa. Tipo, oltre alla Carrà, perché chiaramente se uno muore ed è famoso, cioè, non può essere normale, ma ci deve essere per forza qualcosa dietro. Ora stanno andando giù pesante con Bassetti. Stanno usando proprio tutti i mezzi a loro disposizione, eh, tipo segnalare il suo profilo Facebook, oppure mettere su una causa chiaramente a pagamento, cioè, perché, insomma, oh, la libertà si paga. Oppure stanno facendo una petizione su change.org. Change.org, vabbè, sono dei sognatori. Chiudo con un ultimo concetto e poi leggiamo e commentiamo qualche messaggio divertente, però sta cosa è quella che mi ha dato più fastidio, diciamo. Allora, secondo me ci sono tre tipi di Novax. Quelli, diciamo, più sempliciotti, perché è così, dai, non stiamo a raccontarcela. Molta gente non riesce proprio a mettere in fila due frasi sensate o a comprendere un testo o una domanda. Poi ci sono quelli che sono proprio convinti e radicalizzati, che si imparano proprio approfonditamente tutto e sanno tutto sul tema. Peccato che siano cazzate perché le fonti sono sbagliate, però almeno hanno studiato, insomma, e comunque riescono a ragionare. E poi però c'è la terza categoria, che sono quelli proprio viscidi, perché, cioè, se tu prendi una notizia falsa, capisci che è falsa, ma la usi per cavalcare l'onda e sostenere le tue tesi, sei proprio, cioè, ci sta che non ne vuoi parlare, lo capisco, ma se proprio la prendi, la falsifichi, la usi, cioè, brutto, brutto. Tipo, ultimamente si è sparsa la voce che siano morte 16.000 persone per i vaccini, perché qualcuno ha interpretato male, e diciamo per sbaglio, dei dati che sono stati pubblicati su una piattaforma che riporta gli eventi avversi. Ed ecco subito che qualcuno ha ripreso sta tabella, ci ha schiaffato sopra una bella scritta falsa, ha pure fatto un Excel che figlio mio che sbatti, e ora sono convinto che almeno un Novax su due pensi che 16.000 persone in Europa siano morte per i vaccini. Oppure, ecco che uno prende 20 secondi di un video di mesi fa, li toglie dal contesto, ci piazza una scritta e ricondivide dicendo che i vaccini che circolano non sono mai stati approvati in America, perché poi chi vuole che vada a googlare? Chi è quello stronzo che va a perdere te? Io! E quindi ti odio anche perché mi fai perdere tempo. Ma adesso basta, dai, vi ho ammorbato abbastanza, magari farò qualche video più avanti per approfondire altre cose. Prendiamo qualche messaggio e leggiamolo assieme. I miei genitori dicono di non essersi vaccinati, io vivo con loro, come faccio a sapere se mi stanno dicendo la verità? Tossendogli addosso e aspettando qualche settimana. Non lo fare il vaccino, ora esce una pillola! Attendi, non precipitarti che sei pure giovane, io a 60 anni ancora non l'ho fatto. E io che sto aspettando il suppostone. Avete notato che da quando la gente ha cominciato a vaccinarsi la grandine più grossa? HAARP, manipolazione climatica, sì, non ce la raccontano giusta. Pensa come sono diventate grosse le mie palle! Ordine dei medici e ordine dei pediatri uguale associazione a delinquere. Concordo, visto che stanno tenendo in vita te. Dai, questa era un po' cattiva. No ai vaccini, no alle mascherine, no al distanziamento, sì a due quadratini al giorno di extra fondente che distrugge le malattie e fa bene alla pelle. Iginio Massari 1, Burioni 0! Buonasera, il mio medico di base ha esposto un avviso per i pazienti. Chi non ha intenzione di vaccinarsi contro il covid è pregato di cambiare medico presso la ASL. Può smettere di curare i pazienti non vaccinati? Secondo voi lo faranno molti dottori? Ma è legale? No, è medico. Scusate. Si può trasmettere la salute? No, quindi non si può trasmettere neanche la malattia. Molto semplice. Non deve essere un fan dell'agopuntura fatta con le siringhe trovate al parchetto sotto a casa mia. Salve! Ho bisogno di informazioni. A settembre il bambino ha bisogno di fare un intervento chirurgico a rimuovere l'ernia. Il problema è che è necessario un test per covid e dicono che solo attraverso il naso. Perché? Perché essere così scortese con i bambini? C'è una legge in Italia che permette ai bambini di fare altri tipi di test? Non sono sicura che il test attraverso il naso sia sicuro. Provi a chiedere al suo prete... No, 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 no. Lo stato di emergenza dura due anni e siccome è stato firmato a dicembre 2019, dura fino al 31-12-2021, come programmato. Poi, da gennaio 2022, lo possono reintrodurre fino al 2024. Perché? Perché così lo hanno già programmato e sottoscritto. Così, è scritto nelle stelle. Adesso un commento che, per quanto è proprio rassegnato e vissuto, mi è piaciuto molto. Perché la magistratura non indaga? Perché non si denunciano tutti? Quanti perché? Perché sono tutti collusi? Ma qualcuno onesto ci sarà pure! Temo che ne siano rimasti pochi. Da 15 mesi ci terrorizzano, ci stuprano mentalmente, ci sequestrano, ci tolgono ogni libertà e diritto, ci ricattano, vi iniettano sieri sperimentali in nome di quella che definiscono pandemia. E poi, con i soldi a strozzo del recovery, mettono un'elemosina sulla sanità, che è la minore delle voci. Non vi sentite? Imbecilli! Ah no, ho sbagliato accento. Solo cinque paesi non hanno ancora cominciato a vaccinare contro il covid-19. Corea del Nord, Eritrea, Burundi, Haiti, Tanzania. Dall'anno scorso i presidenti di tre di questi cinque paesi sono morti. Sicuramente non c'è correlazione. Mai avrei pensato di dover prendere come esempio il Burundi. Però, insomma, un saluto agli amici dal Burundi. Questa, occhio perché è difficile, eh? Ci sono un sacco di anziani che attendono di essere vaccinati. Stranamente ancora tutti vivi. Altrimenti non potrebbero attendere di essere vaccinati. L'anziano di Schrödinger. I virus servono, tra le altre cose, alle cellule per scambiarsi informazioni utili tra loro. Se si cerca di sbarrargli la strada, le cellule non ricevono più le informazioni che gli occorrono. E quindi è più facile che impazziscano. Devo avere molte cellule anch'io perché sto impazzendo. Quindi direi che per oggi basta così, ragazzi. È stato un piacere. Fatemi sapere se vi piace questa nuova serie. Se avete suggerimenti, insomma, per oggi direi che è abbastanza. Aspetto gli insulti nei commenti. E basta. Alla prossima!